Gli attacchi di panico numerosi e frequenti, la noia come assenza di prospettive per il futuro, la violenza che nasce dalla somma di egoismo e paura. Il fondatore della Fraternità di Romena, Don Luigi Verdi, elenca questi fenomeni incontrando studentesse e studenti del Liceo delle Scienze Umane Marconi del Pino di Chiavari, nel secondo incontro del ciclo dedicato al tema La bellezza ferita, organizzato dalla Diocesi in collaborazione con la scuola. Nel corso del dialogo Don Luigi ribalta però la prospettiva e invece di analizzare i giovani come una categoria sociologica dai contorni definiti e stagni, invita a guardarli per partire da loro e cercare di interpretare quello che dice la realtà oggi. Il tema sarà la bellezza della fragilità alla fine, cioè come a dire che dentro la fragilità c'è tanta bellezza. Quello che emerge nei ragazzi di oggi sono tre cose, gli attacchi di panico a bestia che da quando è nato il mondo non sono mai esistiti, la noia tutto palloso e ultimamente la violenza. Cos'è l'attacco di panico? Vuol dire ti manca l'aria, ti danno un sacchettino, ti sembra di morire. Cos'è la noia? Non vedo un futuro negli occhi e mannoio. Ma cos'è soprattutto la violenza? Tutti a stupirsi di questa violenza. La violenza è normale, è l'impasto di due cose, egoismo più paura. Abbiamo allevato questi ragazzi a egoismo, che te ne frega, pensa per te, ego, ego, la paura di tutto e se metti insieme l'egoismo e la paura nasce la violenza. E allora questi ragazzi tirano fuori, visto che sono il nostro futuro, ci indicano la via, ci stanno dicendo che è un mondo di matti ormai in cui ci manca l'aria, in cui ci manca un futuro negli occhi. Per me il futuro era la più bella opportunità della mia vita. Per questi ragazzi il futuro è una minaccia, perché gli dicano tanto arriva una bomba atomica, crolla tutto, come fanno a campare se il futuro non è la cosa più bella che gli aspetta. E soprattutto ci mancano le relazioni, non l'egoismo, l'uscire fuori. Come diceva Gandhi, se il tuo cuore diventa troppo pesante, apri la porta scappa via. E noi adulti abbiamo delle responsabilità in questo? Tantissime, soprattutto perché abbiamo creato un mondo basato sulla forza e schiacciando la fragilità. Non sopporto questi idioti, e lo dico idioti di genitori, che dicono ai figli timidi sei forte, perché se gli dici sei forte vuol dire che non vali nulla, sei un debole, tutti bisogna diventare forti. Non so se uno ha un figlio timido, è visto che quello timido è il meglio di tutti. È quello che se uno in casa sta male, lo vede per primo, ha una sensibilità dieci volte più alta ad un altro, ma cosa gli distruggi? È la parte più bella che ha. Allora bisogna aiutare questi ragazzi ad amare la fragilità. Cioè perché se primo amati, amati se hai paura, se sei timido, se sei imperfetto. Poi ci si muove. Non posso fare rimbambito timido tutta la vita. Però se non parti e ti ami, è finita. Le domande innescano processi, fornire strategie risposte preconfezionate invece le chiude, dice Don Luigi. E questo non genera un meccanismo positivo di presa di coscienza, di crescita e di maturazione. Sì, allora, un altro metodo sbagliato è quello educativo. Cioè per esempio non sopporto il catechismo, la scuola, troppa risposta. Cioè ogni domanda, una risposta. Quelli bravini che ti dicano come si campa. E non funziona così. Il problema è abitare le domande. Cioè bisognerebbe ritirare fuori un catechismo, una scuola in cui abita le domande dei ragazzi, anche se non le fanno. Cammini con loro, piangi con loro, sogni con loro, speri con loro. E quindi il dare una risposta non serve a nulla, perché alla fine ingabbi questi ragazzi, non gli dai fiducia, non le aiuti a pensare e soprattutto non le aiuti ad agire, a muoversi. Allora c'è una speranza, anzi una speranza bella solida. La speranza c'è, perché ormai si vive in questa dualità fra la disperazione e la speranza. Io non riesco a trovare più una persona normale. O tutte eccitate pensando essere Dio, o depresse e vogliano morire. Ho detto calma, un po' più di normalità. Perché la parola di sperare vuol dire non vedo nemmeno una possibilità. Sperare vuol dire vedo almeno una possibilità. E quindi la cosa che possiamo fare è aiutare questi ragazzi a sperare, a vedere almeno una possibilità rispetto a quella che gli hanno detto finora.